Costruire ponti con chi non crede o ha una fede diversa è l'auspicio di Francesco all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro alla presenza di 12.000 pellegrini. Mai aggressioni, ha detto, serve sempre la mano tesa e poi l'invito ad aprire i cuori nei confronti di quanti sono la ricerca di pane e di un rifugio. Arrivato da Verona il nuovo mezzo donato ai vigili del fuoco del Vaticano che stamattina il Papa ha benedetto davanti a casa Santa Marta. Durante la cerimonia di consegna il pontefice ha incoraggiato i pompieri per il loro lavoro che a volte porta a rischiare la vita. Diffuse le intenzioni di preghiera per il mese di novembre Francesco le ha dedicate al dialogo in Medio Oriente sottolineando che molte comunità cristiane insieme a quelle ebrei e musulmane lavorano per la pace a realizzare il videomessaggio in lingua spagnola la rete mondiale di preghiera del Papa. All'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sugli atti degli apostoli e ha detto che un cristiano deve essere in grado di costruire ponti anche con chi non crede o ha una fede diversa. Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo di insegnarsi a costruire ponti con la cultura con chi non crede o con chi ha un credo diverso al nostro. Sempre costruire ponti, sempre la manotessa, niente aggressione. Francesco ha invocato l'intercessione dello Spirito Santo anche per l'inculturazione della fede. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede ponendo su quanti sono nell'ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti. Il Papa è sortato a seguire l'esempio di San Paolo alle prese con i pagani nella città di Atene. Paolo non guarda la città di Atene e il mondo pagano con ostilità, ma con gli occhi della fede. E questo ci fa interrogare sul nostro modo di guardare le nostre città. Le osserviamo con indifferenza, con disprezzo, oppure con la fede che riconosce i figli di Dio in mezzo alle folle anonime. Nei saluti ai pellegrini in lingua araba il Papa ha ribadito nuovamente il messaggio chiedendo di aprire i cuori a chi è alla ricerca di pane e rifugio. Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, chiediamo al Signore di fare di noi dei costruttori di ponti e di aprire i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli indefesi, dei poveri, dei disoccupati e di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità. Clima festoso in piazza San Pietro per l'udienza generale alla presenza di circa 12.000 fedeli in arrivo da tutto il mondo. Ad aprire l'appuntamento il consueto giro in Papa Mobile, Francesco, come spesso avviene, ha fatto salire a bordo alcuni bambini. Nel corso dei saluti finali invece diversi annunci, rivolgendosi ai pellegrini polacchi, il pontefice ha ricordato che domenica prossima l'episcopato locale celebra l'undicesima giornata di solidarietà con la Chiesa perseguitata, organizzata assieme ad aiuto alla Chiesa che soffre. Quest'anno il soccorso spirituale e materiale è rivolto in particolare ai cristiani del sud-sud. La vostra preghiera e le opere concrete di solidarietà portino sollevo e d'aiuto ai fratelli e alle sorelle che soffrono per Cristo in diverse parti del mondo. Salutando i pellegrini italiani invece, il Papa ha ricordato il senso di questo mese di novembre. Il mese di novembre, dedicato alla memoria e alla preghiera dei defunti, si è per tutti l'occasione per riconsiderare il significato dell'esistenza umana della vita eterna. Questo tempo si è un incoraggiamento a comprendere che la vita ha un grande valore se vissuta come dono non soltanto a se stesso ma a Dio e al prossimo. Prima dell'udienza generale in piazza San Pietro, nel piazzale antistante Casa Santa Marta, il Papa ha benedetto un nuovo mezzo donato ai vigili del fuoco del Vaticano. Nell'occasione si è intrattenuto con i pompieri, incoraggiandoli per l'impegno a servizio degli altri che tante volte, ha detto, mette a rischio la propria vita. Il veicolo antincendio, allestito con tecnologie e strumentazione di ultima generazione, è in grado di erogare acqua e schiuma attraverso un monitor direttamente dalla postazione di guida permettendo così una maggiore sicurezza degli operatori. In particolare verrà impiegato a supporto dell'eliporto del Vaticano nella gestione delle emergenze dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Quindi l'idea è stata quella veramente di trovare un momento di ispirazione collettiva, di motivazione collettiva, ma di fare anche una cosa utile perché poi questo sarà un mezzo antincendio che mancava e che serve a proteggere un eliporto che fa un grande servizio per l'ospedale Bambino Gesù qui vicino. Tanta la gioia per la donazione del veicolo e per la partecipazione alla cerimonia di consegna. Trovarsi di fronte a sua santità è un'emozione difficilmente ripetibile, di misura difficile da quantificare. In il prossimo oriente la convivencia e il dialogo entre le tre religioni monoteistiche se basa in lazos espirituali e histórici. Di queste terre ci si è arrivato la buona notizia di Gesù risuscitato per l'amore. Oggi, molti comuni dalle cristiane, anche altre judiei e musulmane, lavorano qui per la paz, la reconciliazione e il perdono. Recepiamo per che in Oriente Próximo nasce un spirito di dialogo, un spirito di encuentro e di reconciliazione. Le parole del Papa sul legame fra guerra e danni ambientali. Un tema sempre attuale, soprattutto nell'odierna giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in tempo di guerra e in situazioni di conflitto armato, indetta dalle Nazioni Unite. Francesco ne ha parlato più volte nella Laudato Si e in diversi discorsi come quelli pronunciati durante il recente viaggio in Africa. In altri termini, non può esserci un vero approccio ecologico né una concreta azione di tutela dell'ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto alla destinazione comune dei beni della terra alle generazioni attuali, ma anche a quelle future. Il Papa ha ribadito spesso l'importanza di un approccio integrale. La protezione dell'ambiente viaggia di pari passo con il mantenimento della pace. Che non possiamo parlare di sviluppo integrale senza prestare attenzione alla nostra cassa comune e prenderne cura. Non si tratta solo di trovare gli strumenti per perseverare le risorse naturali, ma di cercare soluzioni integrali che considerino l'interazione dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separati, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Dino è in pagliazzo a 90 anni, a Roma è conosciuto come lo chef dei poveri. Da più di dieci anni, infatti, si è messo al servizio dei più bisognosi che vivono per strada. Dino è il fondatore e il presidente di Roma Moronlus, un'associazione che cucina e serve circa 40.000 pasti all'anno tra la stazione tuscolana, la stazione Ostiense e il colonnato di Piazza San Pietro. Intanto Roma Amor vuol dire che tu leggi Roma da una parte e dall'altra e leggi Amore pure da una parte e dall'altra, va bene? Abbiamo dato questo nome a questo tipo di associazione nostra perché volevamo dare l'impronta di un'associazione che intervenisse e facesse qualcosa perché Roma diventa una città dove regna l'amore. Noi facciamo circa 200 pasti quattro volte alla stessa. Di solito sono dai 120 alle 140-150 persone. Cuciniamo di più perché magari qualcuno vuole due piatti, allora vuole quattro panini. Che vive per strada e dorme all'aperto, sdraiata sui cartoni e ha bisogno di tutto. Intanto hanno bisogno di vestiario e di coperti. Oltre da mangiare e vestire poi ascoltiamo e cerchiamo di entrare nella confidenza più stretta con ciascuno di loro in modo da poter vedere di aiutarli anche da un punto di vista sanitario. La composizione dei senza tetto che mangia grazie a Roma Morollus è molto eterogenea, circa il 40% italiani, mentre il restante 60% proviene per la maggior parte dall'est Europa e dall'Africa. Si tratta prevalentemente di musulmani. Cerchiamo di evitare nei primi piatti di cucinare anche qualsiasi tipo di carne perché non vogliamo porre il sospetto da parte di qualche musulmano che quella carne non sia carne di maiali. Quindi allora abbiamo, quando facciamo i panini, se facciamo 200 panini, facciamo 100 per musulmani e 100 per non musulmani. Vuol dire 100 con affettati maiali e cose di questo genere e gli altri 100 con formaggi, verdure e cose di questo genere. L'associazione, che non ha alcun tipo di introito, oggi può contare su diverse realtà e negozi che l'aiutano. I panettieri che la sera donano il pane invenduto, i mercati rionali per la frutta e la verdura, ma anche realtà più grandi come il banco alimentare, le catene di supermercati che donano i prodotti in scadenza. Quando però questa avventura è partita c'erano solo Dino e sua moglie, ai quali si sono aggiunti col tempo centinaia di volontari. È nata l'associazione così per caso, nel senso che 13 anni fa, mi sono passati i 13 anni, io passavo vicino una stazione qui di Roma, che è la stazione Tuscolana, una persona mi ferma e mi dice che aveva fame, se potevo procurargli un panino. Allora io l'ho ascoltato bene, ho capito che, oltre che lui, c'erano anche altre persone, quindi la sera sono venuto con 10 panini fatti a casa. E così è iniziata questa avventura. Venivano anche da altre parti, allora da 10 siamo arrivati subito a circa 100 persone che stavano là. Ora siamo circa 300 volontari che vengono qua, si turnano, fanno da mangiare, distribuiscono il cibo e poi vanno alla ricerca dei generi di prima necessità, eccetera. I titoli dell'osservatore romano di giovedì 7 novembre, mani tese per costruire ponti con chi non crede o altre fedi. All'udienza generale, il Papa commenta il discorso di Paolo d'Atene e ribadisce l'importanza del dialogo con le culture. Affetto e pensiero ha un'unità da ricomporre, nel libro di Dario Cornati Ma più grande è l'amore. Spiragli nella crisi iemenita, raggiunto un accordo tra il governo del presidente Adi e gruppi ribelli del sud. Test elettorale negativo per Trump, i risultati del voto locale negli Stati Uniti.